Bene, prima di andare avanti voglio solo dirvi come potete sottomettermi i vostri lavori quindi una volta che avete fatto qualche cosa o anche solo per chiedermi dei consigli, suggerimenti, aiuti a me o agli altri del gruppo, potete mandarmi il vostro progetto ma attenzione, non il tutto, il package, insomma dove c'è dentro ma soltanto lo unity package che avete fatto voi come si fa? Cliccate su assets, fate export package e poi a questo punto cliccate sul nome della cartella ora la cartella, ve lo ripeterò, probabilmente dovrete mettere il nome vostro così quando io lo ricarico su vedrò di chi è vedete che qui in questo caso c'è lo script, i materiali eventualmente prodotti e la scena, quindi due materiali in questo caso la scena, main unity e lo script da usarsi, player controller stessa cosa se volete partire dalla mia scena così come l'ho costruita adesso io la pubblicherò, probabilmente l'avrete quindi fate export, mettete include dependencies fate export e a questo punto potete metterle in un posto quindi possiamo mettere export salva e a questo punto questo export viene salvato praticamente sotto dove li avete detto voi ultima modifica, export unity package vedete che sono 30k vi faccio solo vedere che se voi siete in un progetto vergine vuoto come questo che ho appena creato e fate assets import package custom package e andate qui sul volume G dove abbiamo esportato prendete il punto unity package coinvolto fate apri lui vi fa vedere di nuovo il nome della cartella la video 1, il materiale e tutto il resto e voi facendo import potete avere anche su questo progetto diciamo esattamente avete esattamente praticamente la scena quindi andate su video 1 andate su main e avete questa scena e quindi noi siamo su un progetto totalmente nuovo se facciamo il play di questo progetto vedete che abbiamo esattamente script e tutto il resto fatti come vi ho insegnato nei quattro capitoli precedenti quindi questo è fondamentale per poter sottomettere i vostri compiti o anche per scambiarvi fra di voi o con me insomma le cose che fate grazie a tutti Grazie a tutti.